o la ragazze ciao ecco i nuovi gel della bsn master quartz builder master crystal builder anch'esso e il monofasico baby boomer vi dico subito che i due master quindi il quartz e il crystal sono del gel costruttori ottimi in fase di allungamento e di copertura e non bruciano non sviluppano quindi calore e lampada si limano facilmente possono essere utilizzati sia su unghie normali che unghie difficili andiamo subito la consistenza il master quartz nel formato 15 ml ma c'è anche del formato 50 ml è un rosa diciamo pesca si lavora facilmente non c'è difficoltà nella sua lavorabilità ed in particolare una volta che è polimerizzato è un diciamo non è del tutto trasparente come potete vedere e quindi rende in ogni caso l'unghia naturale invece il master crystal ha una consistenza anch'essa medio alta e più auto livellante rispetto al master quartz vediamo subito la consistenza quindi dal al centro verso il borde del barattolo resta assolutissimamente cristallino si stende facilmente una volta polimerizzato resta cristallino anch'esso ora vi faccio vedere la tip eccola qua infine abbiamo il baby boomer il baby boomer è un monofasico quindi non hanno necessità di una base è un gel che vedete è un rosa milky che è nato proprio per creare l'effetto baby boomer guardate la consistenza è una consistenza medio alta si lavora con facilità non brucia si lima e che sembra burro praticamente mi faccio vedere che cosa ho realizzato con questo gel con l'ausilio di altri gel sempre bsn allora questo il boom baby boomer realizzato con absolute e con un cover come base vedete c'è un rosato io in questo caso ho usato un rosa antico e poi ho utilizzato il lab salute che viene appunto sfumato e poi di sopra viene messo il baby gel baby boomer invece quest'altro l'ho ottenuto con sempre una base con la base rosa antica dopodiché ho messo il bianco ho sfumato picchiettato con una spugnetta l'ho ripetuto l'operazione per due volte poi ho coperto ho completato la struttura con il baby boomer e infine poi ho limato e ho sigillato allora ragazze questi sono i nuovi gel quindi vi ricordo i due costruttori master quartz e master crystal e poi abbiamo il monofasico baby boomer quindi nel caso dei due costruttori vi consigliamo anche di utilizzare la nuova base che si chiama base pro e questo è tutto ragazzi un bacione se avete delle domande scrivete sotto questo video ciao grazie 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 grazie